E' bello a tutti i ragazzi quest'oggi vi farò vedere un gioco sul computer No, e non è molto difficile, cioè sono arrivato, lo sono bloccato a livello 33 Poi man mano sono andato un po' avanti, ho fatto il 42 per esempio, perchè poi è troppo difficile Non riesco a fare I primi livelli vabbè li faccio, cioè facilissimi e in poco tempo, perchè sono più facili quindi Lo sento, però c'è dopo che ho già un seguito difficile Per un momento l'ho fatto già 5 stelle Questo non è tanto difficile, però come ancora Questo l'ho fatta 4 stelle, però vabbè è sempre buona Questo è uno dei difficili Per oggi è tutto, questa è la prima volta del video Parkingmania, parcheggiare le auto E ci vediamo al prossimo video, mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale, ciao!